La giunta regionale della campagna, l'8 giugno del 2015, adottava un decreto con il quale venivano assunte decisioni organizzative che di fatto declassavano il reparto trasfusionale di Polla a unità raccolta sangue, accoppandolo a quello di Battipaglia. A distanza di circa due anni, qual è la situazione del centro? Quali i rischi verso il futuro? Ascoltiamo il responsabile del reparto, il dottor Oricchio. Penso che siamo arrivati alla capolinea, nel senso che a breve avverrà, dal punto di vista anche burocratico, questa trasformazione in UDR, quindi unità operativa semplice di raccolta, in collegamento con il sit di Battipaglia. Diciamo che gli obiettivi li abbiamo tutti quanti raggiunti anche quest'anno, perché poi alla fine, anche come dicevo in precedenza, da quando sono arrivato qua ero vestito insieme e avevo anche il cappotto, mi stanno riducendo solamente con i calzini, ma nonostante tutto voglio dire che stiamo sempre lavorando allo stesso modo, quindi abbiamo incrementato maggiormente le attività ambulatoriali, ho incrementato l'attività riguardante la terapia anticoagulante orale, perché tenete presente che questo centro, nonostante tutto, è uno dei centri accreditati all'FCSA, quindi Federazione Centro Anticoagulati della provincia, però se noi andiamo in quello che è il lavoro per cui è nato un servizio, una medicina trasfusionale, che è quella di raccogliere e di erogare il sangue a chi ne ha bisogno, allora dobbiamo dire che indubbiamente qui ci sta qualche piccolo, ci sta qualche problema, però voglio dire che nel momento in cui questo passaggio avverrà dal punto di vista burocratico, io una volta che raccolgo il sangue lo dovrò spedire, quindi mandare a Battipaglia tramite gli autisti e Battipaglia a sua volta una volta che me lo qualificherà, quindi me lo validerà, cosa che facevo io, cioè facevamo noi qui dentro, quindi me lo restituirà a me forse per poterlo erogare, dico forse perché, perché l'impegno e l'assicurazione che mi è stata data dal direttore generale, che noi siamo in collegamento con il SIT, non siamo interarticolazioni, quindi ciò significa che il sangue, già abbiamo mandato anche una richiesta al centro regionale sangue, dove io aspetterò che gli ispettori che mi hanno accreditato come unità di raccolta, quindi solo come raccolta e conservazione del sangue mi faranno un'altra visita per riaccreditarmi anche come assegnazione e come erogazione e conservazione. E nella sanità questo ospedale va preservato perché è uno dei migliori ospedali, lo era una volta, non si è declassato per ovvi motivi, ma è uno dei migliori ospedali che esiste nella zona, per cui io penso che bisogna far quadrato tutti quanti insieme, al di là di quelle che sono le bandiere politiche, ma bisogna far quadrato non sugli interessi personali dei singoli, dei singoli primari, dei singoli direttori, ma bisogna far quadrato per l'interesse dei cittadini, perché un domani potremmo essere anche noi utenti.